Non solo organizzazione e solidità, ma anche qualità di gioco. La crescita è costante. Il Pescara continua a vincere e a divertire. Non esattamente un dettaglio. Col Cerignola 2-0 è arrivato il settimo successo in dieci gare. Primo tempo perfettamente interpretato. La chiave? Muovere velocemente il pallone e alzare il ritmo sulle corsie laterali, visto il grande traffico nel reparto nevralgico. I Biancazzurri lo hanno fatto prima sulla fascia sinistra, anello debole della difesa ospite. Poi a destra. Il piano tattico strategico ha funzionato. Il rammarico aver chiuso il primo tempo con un solo gol di scarto o rigore di Lescano. Davanti si continua a sprecare troppo. Qualche rischio di una certa consistenza invece nella ripresa attraversa di D'Andrea prima del raddoppio, che di fatto ha chiuso i conti. 2-0 figlio di una splendida azione corale che ha coinvolto Cancellotti, De Sogus, Crescenzi e Vergani, autore del gol. Questa volta non ci si può lamentare della direzione dell'arbitro Emanuele della sezione di Pisa. È andata obiettivamente bene nella lettura di un episodio in particolare. Il contatto Cancellotti malcore in area beczzurra, addirittura giallo all'attaccante per simulazione. Citazione d'obbligo per Alessandro Crescenzi. Il 31enne difensore romano non giocava una gara dal primo minuto da oltre sei mesi, precisamente dallo scorso 9 aprile Frosinone Cremonese 2-1. Ha risposto con la solita determinazione, la consueta generosità. Crescenzi è un combattente, alle parole ha sempre anteposto i fatti. In questa categoria è senza dubbio un lusso. In generale numeri entusiasmanti. Sette vittorie e un solo KO nelle prime dieci giornate. 23 punti in classifica, 19 gol fatti e 6 subiti, nessuno su azione, con 5 clean sheet. Non solo organizzazione e solidità, ma nelle ultime giornate anche progressi significativi nella qualità di gioco. Il secondo gol col Cerignola ne è la conferma per sviluppo, rifinitura e finalizzazione. Non è la prima volta.